Cari fratelli e sorelle, buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore per il dono di questo nuovo giorno. Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte nazioni, datevi gloria, perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quest'oggi ci soffermiamo a riflettere su un titolo mariano connesso con un'antica immagine presente nella nostra Diocesi, quella della Madonna della Misericordia, venerata ad Ascoli Satriano. Ieri sono stato ad Ascoli a celebrare nella Chiesa di Santa Maria del Soccorso, lì dove è venerata questa antica immagine che proveniva da un convento, quello degli Agostiniani, Santa Maria del Popolo, e poi è stato trasferito in questa Chiesa che si trova nella parte più alta della città. L'icona della Madonna del Soccorso, della Misericordia, come vedete, è un'icona in stile bizantino del XIII secolo, e nella stessa postura della Madonna cosiddetta Odegitria, cioè che ci indica Gesù via verità e vita, come la Madonna di Ripalta del resto. È una tipologia molto diffusa in tutto il Sud Italia, in tutto l'Oriente cristiano. Maria, con quel gesto ampio della mano, presenta Gesù, che tiene in mano un rotolo. L'immagine del XIII secolo è stata restaurata di recente, fatta restaurare da Monsignor di Molfetta, e quindi sono tornati alla luce gli antichi colori. Notiamo l'immagine e lo sguardo di Maria, con quegli occhi penetranti e, sotto un certo punto di vista, severi, nel senso non che incutono timore, ma ci fanno pensare al grande mistero della morte e risurrezione di Cristo, al mistero pasquale. Notiamo sullo sfondo e intorno all'Aureola alcuni gigli, tipico segno del periodo angioino, dell'addominazione angioina nel Sud Italia, appunto fra XII e XIII secolo. E' la Madonna della Misericordia. E' invocata in questo modo ad Ascoli Satriano, così come in altre città del mondo. Questo titolo lo si deve ad un grande abate del X secolo, Odone di Cluny, e Odone di Cluny diffuse il titolo di Maria Madre di Misericordia, chiamata così, invocata perché è colei che ha generato Gesù Cristo, misericordia visibile dell'invisibile Dio misericordiosa. e perché è misericordiosa verso i Suoi figli. E' bellissima l'espressione con la quale noi cantiamo il Signore e la apprendiamo dalle labbra di Maria. Di generazione in generazione la Sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Bastano queste parole per dirci il senso di questo titolo di Maria Madre di Misericordia. Noi possiamo dire siamo inseriti in un percorso, siamo incamminati in una strada nella quale tutte le generazioni cantano la misericordia di Dio perché la sperimentano. E sono testimoni di questa misericordia. E le altre parole del Magnificat Dio ha soccorso Israele e suo servo ricordandosi della Sua misericordia. Il Signore è grande nella Sua misericordia, si ricorda sempre di noi, ci soccorre. Sappiamo benissimo che Papa Francesco ha voluto dedicare un anno intero alla misericordia. Sappiamo anche che ha voluto far sì che quest'anno fosse davvero abbracciato dal senso della misericordia di Dio e l'ha indetto attraverso una bolla, la misericordie vultus, nella quale Egli ci parla di Maria e usa queste parole. Il pensiero ora si volge alla madre della misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in quest'anno santo perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. La madre del crocifisso risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore. Il suo canto di lode sulla soglia della casa di Elisabetta fu dedicato alla misericordia che si estende di generazione in generazione. «Anche noi eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria». Bellissima questa espressione. «Anche noi eravamo presenti in quelle parole» perché Maria contemplava il mistero della storia, della salvezza, con occhi di fede. «Guardava a tutta l'umanità con lo sguardo di chi si sente visitato da Dio. Anche noi siamo inseriti in una storia di misericordia e anche noi siamo chiamati ad essere testimoni della misericordia del Signore verso i nostri fratelli». vogliamo invocarla, perciò, con queste dieci Ave Marie nelle quali vogliamo contemplare proprio il secondo mistero della gioia, quello della visitazione, nel quale vediamo che Maria entra nella casa di Elisabetta, viene salutata come beata perché ha creduto e dal suo cuore si innalza il cantico del Magnificat. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria, Madre di Misericordia, prega per noi. Maria, salute degli infermi, prega per noi e sostieni tutti coloro che sono ammalati di coronavirus. Concludiamo la nostra preghiera mattutina con le parole che il Papa ha composto per questo Mese Mariano. La seconda preghiera. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze, di angosce, che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a te, Madre di Dio e Madre nostra e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l'anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali per impedire il contagio non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull'economia e sul lavoro. Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. Sia accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che con sollecitudine pastorale e impegno evangelico cercano di aiutare e sostenere tutti. Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. Assisti i responsabili delle nazioni perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. Maria Santissima tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre Amatissima fa crescere nel mondo il senso di appartenenza e ad un'unica grande famiglia nella consapevolezza del legame che tutti unisce perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede la perseveranza nel servire la costanza nel pregare. O Maria consolatrice degli afflitti abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia così che la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. vi do appuntamento per questo pomeriggio alle ore 17 naturalmente per i cresimandi e poi questa sera alle ore 18 dal santuario della Madonna di ripalta essendo sabato giorno dedicato a Maria guiderò la preghiera del rosario e poi presiederò l'eucalistia. Il Signore sia con voi sia benedetto il nome del Signore il nostro aiuto è nel nome del Signore vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo la gioia del Signore è la nostra forza buona giornata a tutti e per